Il capo della Digostri ha già fatto poco anzi una conferenza stana, sono state denunciate sette persone del gruppo di una persona che faceva parte tra virgolette tra quelli contestati. Lei ha detto che la sicurezza non ha colore politico. E lo confermo, lo ribadisco, l'ho detto forse anche qualche altra volta, la sicurezza non può dividere, la sicurezza deve unire, non si deve per forza ad ogni costo polemizzare. Perché come ho detto prima, a volte ci si, voglio trovare le parole giuste, concentra più sulle conflittualità che possono nascere dalle polemiche.